Il Partito Comunista denuncia quello che è da consegarsi il licenziamento di Salvatore Catello che è stato il candidato alla Regione Toscana del Partito Comunista. Che cosa è successo? Beh, in realtà tecnicamente non è un licenziamento, non mi è stato rinnovato il contratto però in realtà è un licenziamento mascherato, soprattutto l'ha fatto grave perché è un licenziamento politico perché della mia squadra solo a me non è stato rinnovato il contratto quando fino al giorno prima il mio responsabile mi diceva che mi sarebbe stato rinnovato e stavamo programmando il lavoro che sarebbe partito da lì a pochi giorni su tutta Firenze che sarebbe durato oltre due anni e soprattutto a me il contratto mi era già stato rinnovato il 31 luglio proprio in visione di Firenze tant'è vero che questi due mesi, cioè agosto e settembre, tolto un po' di coperture delle persone in ferie abbiamo lavorato molto poco e quando io ho chiesto le due settimane di permessi non retribuiti per poter fare la campagna elettorale loro erano molto contenti perché di lavoro ce n'era effettivamente poco perché il vero lavoro sarebbe partito a ottobre, infatti quando sono rientrato il 21 settembre al lavoro mi è stato subito detto che il lavoro sarebbe cominciato il 12 ottobre lo stavamo programmando questa è la realtà, invece alle 14.30 dell'ultimo giorno, cioè del 30 settembre mi ha telefonato la capa e mi ha detto che non c'era lavoro e che quindi a me non mi sarebbe stato rinnovato il contratto solo a me e niente, quindi diciamo che è un fatto veramente grave nel 2020 in Toscana noi definiamo la Toscana un esempio un'avanguardia per quanto riguarda i diritti democratici evidentemente c'è qualcuno che con arroganza e presunzione pensa di poter fare quello che vuole e noi proveremo in tutti i modi a far vedere che non è così ma non perché sono io, è perché noi l'abbiamo sempre fatto per tutti però diciamo che in questo momento io posso essere un esempio ci metto la faccia in prima persona l'avevamo detto che noi non ci saremmo fermati il 21 settembre perché ci saremmo stati anche dopo e così è stato Ecco, nel comunicato del partito si fa riferimento oltre alla cooperativa in questione che è l'Archimede Ollus si fa riferimento anche ad Alia che dovrebbe essere responsabile del comportamento delle varie ditte a cui dà gli appalti rispetto ai dipendenti se ci vuoi dire anche di che cosa ti occupavi poi con questo lavoro e perché sospetti che sia un licenziamento politico hai avuto qualche avvisaglia? Allora, ovviamente non me lo potevano dire direttamente perché sennò sarebbe stato facilmente impugnabile però è palese a me non è mai stato fatto nessun richiamo anzi, mi creda ma potrebbe posso dare tutti i numeri di telefono dei miei colleghi con cui ho lavorato negli ultimi due anni dicendo della mia serietà e della mia bravura su questo lavoro io ho fatto in questi due anni prima un anno di lavoro diretto per Alia come interinale e poi dopo ho scaduto perché Alia comunque è una partecipata quindi a maggioranza pubblica assume solo tramite concorso finito quel periodo lì e io non ho fatto nessun presidio nessuna manifestazione non ho fatto nessun casino perché così era sono stato chiamato alla cooperativa Archimede prima ho lavorato la cooperativa Archimede a due cooperative una si chiama Ati e una Archimede prima ho lavorato 4-5 mesi dal dicembre dell'anno scorso fino ad aprile per la cooperativa Ati su Bagnarripoli facendo le attivazioni del porta a porta noi ci occupavamo di questo le nuove attivazioni del servizio di porta a porta e della raccolta differenziata io prima lavoravo per strada quindi dando a tutte le persone fisicamente i bidoncini e poi dopo sono stato spostato promosso in ufficio a inserire i dati del lavoro che veniva fatto per strada e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che c'erano stati posti anzi abbiamo superato le loro aspettative tanto è vero che loro non si aspettavano di arrivare al 95% e prendere i premi e invece noi siamo arrivati a oltre il 96% e hanno preso i premi loro a noi non ci hanno dato niente merito di tutta la squadra e non mi basta e ci hanno sempre portato sul palmo della mano ci hanno lodato tutti dicendoci che noi saremmo stati il fulcro del lavoro su Firenze e saremmo stati affiancati da altre persone e il 30 settembre è cambiato qualcosa Alia è responsabile perché a parte vabbè noi politicamente siamo contro l'esternalizzazione contro il precariato eccetera eccetera ma Alia è responsabile perché Alia ha un codice etico io ho lavorato direttamente per Alia effettivamente all'interno questo codice etico è rispettato ma Alia è responsabile anche del comportamento dell'azienda a cui appalto i lavori perché la cooperativa Archimede non rispetta questo codice etico la cooperativa Archimede ATI che sono la stessa cosa durante il lockdown ha licenziato un proprio lavoratore che aveva denunciato la mancanza di DPI quindi dispositivi di protezione non è stato il blocco dei licenziamenti poi infatti è stato reintegrato quindi noi vogliamo che Alia faccia da garante vorremmo in realtà che i lavori fossero tutti internalizzati però diciamo io ho chiesto io ho lanciato io io e il mio partito abbiamo lanciato un presidio proprio ai cancelli di Alia perché Alia è responsabile e Alia lavora con i soldi nostri perché è al 100% una spa pubblica ai cancelli di Alia a mercoledì 7 ottobre alle ore 18 ho lanciato questo presidio a cui hanno già aderito decine di persone tantissimi sindacati e chiedendo l'incontro con i vertici di Alia per parlare di queste cose qui con l'amministratore delegato con il responsabile alla comunicazione e con la responsabile che appalta i lavori esterni quindi noi pensiamo che questa situazione è emblematica per quanto riguarda me perché c'è anche diciamo il peso della parte politica riguarda però tantissime centinaia di lavoratori come già abbiamo denunciato in questa campagna elettorale precari che è vero che c'era il blocco dei licenziamenti ma chi è scaduto il contratto di lavoro determinato a quelli quelli sono andati a casa e quindi porteremo avanti questa battaglia non solo per me ma per tutti quei lavoratori precari che hanno perso il lavoro contro le esternalizzazioni perché le esternalizzazioni sono sempre a ribasso sulle pelle dei lavoratori quindi noi usiamo ancora diciamo la mia figura che in questo momento è sotto gli occhi perché comunque ero candidato per portare avanti delle tematiche importanti e delle battaglie importanti perfetto grazie Salvatore poi ti mandiamo il link in segata grazie mille gentilissimo grazie un abbraccio in bocca al lupo ciao buona fortuna buon lavoro grazie